MSP Roma, Gold Cup. È entusiasmante per noi tornare all'antico, perché sono 30 le edizioni che MSP ha organizzato nella Gold Cup e non sentirle, ma soprattutto dopo questi due anni di stop forzato per noi tornare nei teatri con i nostri atleti, con le nostre associazioni, è motivo di orgoglio ma soprattutto di entusiasmo. In questa stagione siamo riusciti a riprendere e riportare in campo, come si dice in gergo, varie attività, tante le finali quest'anno, quindi dopo la Gold Cup, che è il saggio dei saggi per noi, abbiamo il nuoto, sono ripartiti con una gara intersociale, abbiamo il padel che per noi è il nostro fiore all'occhiello come MSP Roma, siamo giunti alla settima edizione e quest'anno abbiamo la finale l'11 di giugno, che ha coinvolto ben 124 squadre partecipanti per oltre 80 club e per circa 3.000 tesserati. Da quest'anno anche il calcio è andato alla grande, con calcio a 5, calcio a 7, calcio a 8, Roma e calcio a 8, dove addirittura sono 60 le società, 200 squadre partecipanti e 3.600 giocatori. Ma oltre questo c'è la novità del foot golf, insomma tante attività che a noi ci piace organizzare, con entusiasmo, con professionalità, viva lo sport e viva MSP Roma. Per essere qui, è benvenuto a la notte del istituto. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti